Buono compleanno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo delle 30 curiosità del film di quest'anno La Bella e la Bestia. Iniziamo subito! La Bella e la Bestia fu il primo film d'animazione in assoluto a vincere il premio Oscar. Nella fiabba originale, il padre di Belle è un ricco mercante che ha altre due figlie che erano invidiose e gelose della loro sorella più piccola che era più bella di loro. Belle è l'unica del suo paese a indossare un vestito blu. Questa scelta è stata fatta perché così si notava di più la sua unicità. L'animatore Glenn Keen si ispirò a diversi animali per creare l'aspetto della bestia. Il leone, il bufalo, il gorilla, il cinghiale, il lupo e l'orso. L'unica caratteristica umana che permane sono i suoi occhi. Infatti Belle, dopo la sua trasformazione in umano, lo riconosce proprio da questi ultimi. Nel film non viene mai rivelato il nome della bestia. Il primo attore che ha accettato di unirsi al progetto è stata Emma Watson. Il vestito oro di Belle è stato realizzato con 54 metri di organza di seta tinta di giallo. Ci sono voluti 914 metri di fili e 12.000 ore di lavoro, arricchito con 2160 cristalli svaroschi. Il pavimento della sala da ballo del castello è stato realizzato con 1114 metri quadri di finto marmo. Il disegno è stato preso da un motivo del soffitto dell'abbazia benedettina di Branau, in Germania. I lampadari della sala sono stati creati prendendo spunto da quelli della reggia di Wetzel. Sono state coltivate o acquistate circa 1500 rose. La foresta incantata che circonda il castello è stata costruita con veri alberi e siepi, un lago ghiacciato e circa 20.000 ghiaccioli. Ci sono volute ben 15 settimane per completarla. All'inizio il regista Bill Condon non voleva assolutamente fare questo film perché riteneva che il lungometraggio animato del 91 fosse già perfetto così. Le Todd è stato il primo personaggio apertamente omosessuale in un film Disney. Ma il tutto è stato realizzato con molta delicatezza e attenzione, tant'è che ogni persona, per quanto sensibile essa sia, non è rimasta turbata dalle scene. Le scenografie, gli oggetti di scena, i costumi, le acconciature e il trucco sono un'accurata riproduzione di quanto esisteva nella Francia del XVIII secolo. Più di mille persone hanno lavorato 24 ore su 24 per costruire e decorare i colossali set, regalando al film un'incredibile quantità di opere artigianali. Il design della biblioteca del castello è basato su quello di una celebre biblioteca che si trova in Portogallo. Il pavimento è stato realizzato con 185 metri quadri di finto marmo e la scenografia comprende migliaia di libri creati appositamente per il film. Sul tema dell'emancipazione femminile che è anche trattato nel film, ogni reparto del design di appunto questo film è cappeggiato da donne. Il villaggio dove vivono i personaggi è chiamato Villenueve. Questo è un omaggio a Gabriele Villenueve che è stata autrice della prima versione del racconto. Il primo trailer ha ricevuto 92 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, è un record. Sono state utilizzate ben 8700 candele durante le riprese del film. Il prologo è stato riscritto 200 volte prima di arrivare alla sua versione finale. Emma Watson si è rifiutata categoricamente di indossare un corsetto affinché l'abito fosse comodo e poteva farla muovere liberamente. Sono stati utilizzati ben 3 cavalli per film, ma solo uno era del colore corretto. Gli altri due venivano colorati ogni giorno prima delle riprese. Nei cinema russi la visione è stata vietata ai minori di 16 anni, questo per via di una legge che proibisce la diffusione di propaganda omosessuale rivolta ai bambini. Emma Watson ha detto di no a La La Land perché era già legata alla Bella e alla Bestia. Belle si teorizzò che soffrisse della sindrome di Stoccolma, cioè la condizione psicologica per cui i prigionieri si innamorano dei propri lapitori. Nel film ci sono tutte le canzoni del cartone animato originale. L'azienda australiana My Lasting Bouquet ha creato una rosa protetta da una cupola di vetro che può durare un anno senza essere esposta al sole. Si chiama A Lasting Bell e la rosa è disponibile in vari colori, il prezzo si aggira intorno ai 200 euro. Alan Menken fu autore delle colonne storiche del film d'animazione La Bella e alla Bestia e vanta di ben 8 premi Oscar. Anche per questo film è stato scelto lui come compositore. Emma Watson ha dovuto fare molte lezioni private di canto prima di girare appunto le scene cantate. Ok ragazzi, le trenta curiosità finiscono qui e spero che siano state abbastanza interessanti. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!